Domani ricorre il settanticinquessimo anniversario della liberazione del campo di esterminio di Auschwitz-Birkenau. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera, di raccoglimento, dicendo a ciascuno nel proprio cuore mai più, mai più.